Leggerò una poesia di Bob Dylan del 1964 che si intitola With God on our side, cioè con Dio dalla nostra parte. In realtà questa poesia era ovviamente le liriche di una canzone, omonima, che faceva parte di un album che si intitolava The Times They Are A-Changing, i tempi stanno cambiando. Purtroppo per noi in realtà i tempi non sono cambiati per nulla e sentirete che queste parole di Bob Dylan si possono applicare benissimo anche ai nostri giorni. Oh, il mio nome non conta, la mia età ancora meno. Il paese da cui vengo si chiama Midwest, mi ha allevato ed educato a obbedire le sue leggi e a pensare che la terra in cui vivo ha Dio dalla sua parte. Oh, i libri di storia lo dicono o lo raccontano così bene, la cavalleria caricava, gli indiani cadevano, la cavalleria caricava, gli indiani morivano, il paese era giovane ma aveva Dio dalla sua parte. La guerra ispano-americana ha fatto il suo tempo e anche la guerra civile fu presto dimenticata. I nomi degli eroi li ho dovuti imparare a memoria, avevano le armi nelle mani e Dio stava dalla loro parte. La prima guerra mondiale, ragazzi, venne e se ne andò. La ragione per combattere non l'ho mai capita, ma ho imparato a accettarla, accettarla con orgoglio, perché non si contano i morti quando Dio sta dalla tua parte. Anche la seconda guerra mondiale è arrivata alla fine. Abbiamo perdonato i tedeschi e di colpo ce li siamo ritrovati amici, benché ne avessero ammazzati sei milioni e le avessero bruciati nei forni. Ora anche i tedeschi hanno Dio dalla loro parte. Ho imparato a odiare i russi per tutta la mia vita. Se ci fosse una nuova guerra, sono loro che dovremmo combattere, loro che dovremmo odiare e temere, loro che dovremmo fuggire ed evitare, ma accetteremo tutto con coraggio e con Dio dalla nostra parte. Ora però abbiamo armamenti di polvere chimica. Se dovremmo spararli, vorremmo spararli. Basterà schiacciare un bottone e il mondo intero salterà per aria, ma non si fanno mai domande quando Dio sta dalla tua parte. Durante lunghe buie ore ho pensato a questo, che persino Gesù Cristo fu tradito da un bacio. Ma io non posso pensare per voi. Sarete voi a dover decidere se anche Giudea Iscariota aveva Dio dalla sua parte. E così, mentre vi lascio, provo una stanchezza infernale. La confusione che sento non si può esprimere nel linguaggio. Le parole mi riempiono la testa e queste cadono a terra. Se davvero Dio sta dalla nostra parte, allora fermerà la prossima guerra. Graziecono! Grazie a tutti!